Nedvede a sinistra, deve stare bello largo Lopez, Buffon è stato anticipato da un suo difensore palla ancora per Claudio Lopez, la rimette dentro e poi Simeone, Simeone, Prete, Lazio in vantaggio Crespo sposta il pallone, diventa un assist per Claudio Lopez è scattato Lopez, palla dentro, Nedvede, palo di palo, Nedvede Pancro a Poboschi, esterno destro, palla sul palo